ok solo online per un attimo questo video funziona in questa maniera maledette ok 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 for ya a masterpiece one of my finest one of my finest the provocazoni quanto costa vabbè che tanto può non sono un sale però ma mi sembra che costava su 500 mila non quello del genere no, sui 105 però non me lo do no, quella provocazione Volevo sacco di gemerose a 3 milioni a 3 milioni Grazie. Tanti normale, posso anche spaniare i bracci, quindi ne tengo tre, il resto li raccolgo tutti. Sì, perché così c'è anche spazio per quelli nuovi che andrei a prendere. Sì, non ho capito. Sì, devi andare a fare la cosa. Mi ha fatto. Sì. 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 È troppo grande da lasciare. Sì, devi guardare. Sì. Vai andare learnt։ Sì, devi guardare. Sì, guarda. non c'è un problema E' un po' di rai ... 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 ho usato l'altra gamba ah! il giudice è il Ah, bisogna ripetirlo, devo provare a viola. Sì, non abbiamo ripetito due a quattro gano. Ah, quando sono giuto il giro, devo darvi i cavigli sopra. E chi tira quella? Ah, vedete che dopo un po' ti fate la scarica, eh. Vedete dove ti trovo. Oh, la fine. Un po' questo. Oh, questo. È che cosa pensi che stai nel giro? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.